Ave, popolo rosso e nero, rientro, ero fuori che stavo grigliando gli avversari Iscrivetevi al canale, campanella e aggiornamenti, facciamo crescere il canale a benzinero Pollice in su per il video, forza Milan sempre Detto questo, giornata super negativa per noi Comunicato ufficiale del Milan, Salanoglu, Teo Hernandez, positivi Era nell'aria, era nell'aria perché c'era qualcosa di strano che non andava Salanoglu, erano due allenamenti che saltava Quindi non ci voleva tanto a immaginare che probabilmente c'era un sospetto di covid E questa cosa è una bella tegola, bella tegola perché oggi è la vigilia di Milan Cagliari Noi come sempre rimaniamo decimati Oggi abbiamo quattro giocatori fermi per covid Ripeto, De Laurentiis, Napoli, ripeto, quattro giocatori fermi per covid Tutti importanti Ma noi andiamo avanti perché io rimango ottimista Giochiamo con una formazione rimaneggiata ma comunque competitiva I ragazzi hanno dimostrato fino ad ora di sapere superare ogni momento di difficoltà Di sapere superare le scienze perché la rosa che abbiamo in mano comunque vada un'ottima rosa Recuperiamo Ibrahimovic e questa è la nota più importante Il morale della squadra è altissimo Certo, le perdite sono importanti perché Teo Hernandez per noi è fondamentale Tanto quanto c'ha la no glue Giochiamo contro un Cagliari in un momento di difficoltà Che però arriva rinforzata dal calcio mercato Hanno acquistato Duncan, ottimo giocatore Cazzo a me piaceva tantissimo già dai tempi del Sassuolo Hanno acquistato Rajan Agolan Che comunque in una realtà come Cagliari può dare assolutamente molto E non è un giocatore da prendere con le pinze Comunque un giocatore di classe è vero Arrivato, ormai è arrivato però Comunque in quella realtà lì bene, molto bene Ci può mettere in difficoltà davanti Sono un'ottima squadra Ragazzi, che dire Diciamo che non è una stagione che il culo tifa Milan Cominciamo comunque a essere una delle squadre più colpite Dopo il Genoa dal coronavirus Speriamo che tutto ciò finisca Ovviamente spero vivamente di riuscire a recuperare almeno Revic Per la partita contro l'Atalanta Perché già è una partita tosta domenica prossima Molto probabilmente non ci avremo né a Cani né a Teone Diventa ancora più difficile Comunque partita alla volta Domani questa partita a Cagliari E il Milan comunque si schiera come vi ho detto Con una formazione di tutto rispetto Superiore sicuramente al Cagliari Giocheremo con Gigio Donnarumma tra i pali Da lotta Romagnoli E Chier in difesa Sulla destra Davidone Nostro Giocatore del momento A centro campo Sulla destra gioca Castiglieco Perché anche se Salamiche È rientrato in gruppo Meglio non rischiare lo Stefanone Pioli Lo sa quindi Visto già che siamo in grossa emergenza È giusto non rischiare il giocatore A centro campo Tonale che si Coppia che mi lascia super tranquillo Anche perché Tonale È sempre più in crescita Sta entrando sempre di più nei meccanismi del Milan Quindi serenità più assoluta Sulla sinistra Troverà spazio Leao meravigliavo Anche lui che sta vivendo un momento di grazia Ovviamente Io lo vedo di più come prima punta Però adesso in un caso di emergenza Va benissimo anche lì E Diaz Dietro le punte Anche lì Diaz a me è un giocatore Che piace tantissimo Deve sicuramente migliorare Non è al pari di Cialanoglu Ma comunque Diaz È un giocatore forte Scalta l'uomo Cialdribi Gioca di prima È un ottimo giocatore In panca Davanti Torna Zlatan Ibrahimovic Punto di riferimento Anche per le palle alte Quindi possiamo giocare in tutte le maniere Vedete che comunque ragazzi Il Milan È altamente competitivo Anche perché in panchina adesso Doveva essere cima di te Abbiamo Augo La squadra Comincia in difesa comunque C'è Musacchio Un po' di panchina ce l'abbiamo Abbiamo i nostri giovani Guardate Io mi sento Assolutamente sereno Certo Ovvio Anche a me Piacerebbe avere La rosa al completo Quest'anno si sapeva Rispetto agli altri Noi non dobbiamo fare Né piazzina Né continuare a lamentarsi Quest'anno è un anno così Si sa che c'è il covid Si sa che ogni squadra Avrà i suoi momenti Così Una squadra forte Riesce e reagisce Anche in queste situazioni Di emergenza Noi lo siamo In Milano lo è Non si attacca A A Aslvari Non ci attacchiamo A Aslvari Salvo che Salvo che Il contatto Con Cialanoglio Ternandez Domani Mi porta altri Tre contagiati Non è che possiamo andare Con la primavera Diventa un problema Detto questo Il calcio mercato Stiamo per chiudere Per Marione e Mazzuchic La trattativa È sempre più avanzata Ragazzi Capisco Ormai si sono spaccati in due Ci sono Quelli pro Mazzuchic Quelli contro Mazzuchic Io vi dico questa cosa Contratto di sei mesi Che siate contenti o no È vero Ha giocato nella Juve Sono io il primo a dire L'abbiamo odiato tutti Quando giocavo nella Juve Ma però è stato anche Stimato come campione Cioè Giocatore di assoluto livello È vero che è fermo È andato in un campionato Di merda Però Però ragazzi Questi 4-5 mesi Non va bene È scoppiato È spompato A noi ci serve un vice Ibra Va bene così Fra 4 mesi Non è andato bene Ciao Grazie di tutto E via Ma è inutile Stare lì a lamentarci Adesso arriva Sosteniamo il ragazzo Perché Per me Secondo me Ci può dare tanto A noi serve Comunque Io sono dell'idea Che se manca Ibra Faccio giocare Leao Come prima punta Anche se ho Mazzucic Perché prima Faccio giocare i miei giovani Mazzucic è un'alternativa Ovvio 20 minuti finali Ci serve Preferisco avere uno Come Mario Mazzucic Che sulle palle alte Pim pum pam Sulle mischie Così Qualcosa ti combina Ovvio quello Tomori Anche quello Il Milan vuole accelerare Secondo me il Milan Punta A chiudere le trattative Entro fine settimana Perché Per velocizzare L'inserimento Dei giocatori Perché fra poco Poi a febbraio Entriamo nel vivo Del campionato Ragazzi Allora Non voglio Vedere Gente Depressa Gente che piange Per le scienze Gente che piange Per il covid Noi Ricordiamoci sempre Noi siamo il Milan E non piangiamo mai Qualsiasi cosa Ci accade Qualsiasi cosa Evento sfortunato Perché Il Milan È sempre Riuscito Ad uscire Da ogni situazione E riusciremo Anche domani Quindi Poi domani Vedremo la formazione Uffiziale Che schiererà Pioli Stasera Ci vediamo Inter-Juventus Come abbiamo ben detto Per il Benzinero Una partita Dove Il pareggio Secondo me Risultato Che ci farebbe Veramente comodo Dopo Io se devo scegliere Preferisco Eliminare Pian pianino Quindi Se devo scegliere Vinca l'Inter Così la Juve Se noi battiamo il Cagliari È ancora più distante Io vado In eliminazione Se invece voglio Guardare il campionato Allora è meglio Che vinca la Juve Che così L'Inter Si allontana Grazie al cazzo Se devo vedere Le squadre che mi stanno Sui coglioni È uguale Perché mi stanno Sui coglioni Tutte e due Quindi il problema Non si pone Quindi stasera A partita Ci guarderemo Anche l'Atalanta Nostra diretta avversaria Che ragazzi Attenzione Io Non sto guardando Nell'Inter Nella Juventus Per la lotta Il campionato Io sto guardando L'Atalanta Che è la squadra Che a oggi Come gioco Mi fa più paura Di tutti Stasera Stiamo belli Comodi Sul divano Ci guardiamo La partita Chi vinca Chi perde Alla fine A noi Poco ci importa Iscrivetevi Al canale Youtube Campanella Degli aggiornamenti Pollice in su Per il benzinero E raga Passate Una grande Domenica E non pensiamo Alle assenze Grande domenica Forza Mina Sempre